Ho imparato da una tragedia grande ad apprezzare le cose semplici, da una giornata di sole alle polpette di melanzane di mia mamma. Era un giorno di fine agosto quando Giussi Versace, giovanissima ragazza calabrese, ha perso in trampe le gambe, tranciate di netto, in un incidente drammatico nel tratto autostradale nei pressi di Castrovillari, sulla Salerno-Reggio Calabria. La sua testimonianza ieri sera al protoconvento francescano, nel corso della ottava edizione della Befana del Poliziotto, organizzata dal SIULP, è stata un inno alla vita. Una vita vissuta nel dolore, ma aggrappata alla fede, nella sofferenza, ma condita di speranza, con tante difficoltà affrontate a viso aperto. Una vita comune che è diventata straordinaria nella sua semplicità perché ha saputo cogliere la prospettiva giusta nel momento in cui tutto avrebbe fatto pensare al peggio. In sala, ad ascoltarla, un pubblico commosso e attento, gli agenti che l'hanno soccorsa per prima in quel tragico incidente, sul palco, insieme a lei Pasquale Gagliardi, primario del 118, che le prestò i primi soccorsi, attraverso il tempestivo intervento dell'elisoccorso, e Claudia, sorella di Massimo Impieri, giovano poliziotto castrovillarese, morto investito sulla strada, mentre compiva il proprio dovere. Quel dovere che aveva tanto desiderato di svolgere nel migliore dei modi. Ma anche il segretario nazionale SIULP, Felice Romano, e il dirigente superiore della Polizia di Stato, Cosimo Maruccia. Una serata, insomma, dai valori forti, dal senso profondo, di quelle che non ti aspetti in una ricorrenza tanto festosa come l'arrivo della Befana, che colorerà gli occhi di gioia dei tanti bambini presenti all'appuntamento ormai consolidato del SIULP. Ma la testimonianza della Versace diventa la manifestazione palese di come la vita, nella fede, può fare grandi meraviglie, anche in momenti tragici e dolorosamente grandi, come può essere ritrovarsi giovanissima, senza gambe e cosciente in una macchina incidentata. Mi fa molti a parte, insomma, io ho scoperto in questa cosa di avere una grande famiglia, degli zii, dei cugini, una madre, un padre eccezionale, che probabilmente in quel momento avevo sempre un po' anche, non dico snobbato, però sai, li dai per scontati, e invece ti rendi conto che poi non è così. E io tutte queste cose le ho scoperte a Lourdes, davanti a quella grotta, perché la fede mi ha aiutato a girare la domanda. Cosa ti ha risposto la Madonna? Perché non a te, che hai tu più degli altri. E in effetti poi sono tornata a un albergo pensando perché non a me, perché mi chiamo Giusy Versace, perché a me non doveva succedere. E' successo a me, amen, e da quel giorno io non ho più visto una croce da portarmi dietro. Io ho visto in queste mie nuove gambette un'opportunità di una nuova vita, di un nuovo futuro, l'opportunità di tornare in piedi, l'opportunità di tornare a guidare. Oggi io ho ripreso la patente, ho ripreso anche il patentino per lo scooter, ogni tanto vado sui kart, ho le gambe per andare al mare, ogni tanto ho anche quelle per correre, però la cosa più bella è che io ho imparato a guardarmi allo specchio senza arrabbiarmi, ho imparato a guardare la gente e continuando a sorridere. E ho imparato che anche se tu dentro sei male e anche se è chiaro, voglio dire, non posso dirti, sono felice di aver perso le gambe, ma sicuramente non sono triste. Io sono felice, lo chiamo la vita e ho imparato da una tragedia grande ad apprezzare le cose semplici, da una giornata di sole alle polpette di melanzane di mia mamma.